Musica Bella a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del vostro Nico Gaming Che come sempre torna a portarvi le ultime notizie per quanto riguarda il coronavirus in Italia Allora il bollettino delle protezioni civili di oggi Dunque, allora sono 1.402 i nuovi contagi Il totale sale a 221.216 I nuovi decessi sono 172 e il totale sale a 30.911 I guariti sono 2.452 nelle ultime 24 ore Il totale infatti è salito a 109.039 In Lombardia è stato sottoposto al tampone il 90% degli ospiti dell'RSA Il 25% è risultato positivo Per le altre notizie il governo in cerca di coperture per il decreto rilancio Fonti del Viminale c'è l'accordo sui migranti Poi ripresa del movimento tra regioni dal primo giugno Boccia frena però ipotesi solo fra quelle confinanti e con meno contagi Poi dal 18 le visite si potrebbero allargare anche agli amici E nella fase 2 accordo tra governo e regioni Dal 18 di questo mese, dal 18 giugno Accordo dal 18 riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti Poi c'è anche un no alle speculazioni per le mascherine Perché almeno così dicono Dicono che le mascherine dovrebbero essere vendute a 50 centesimi anche dai tabaccai Infatti Arcuri ha rilanciato dopo le accuse ai farmacisti Intanto negli Stati Uniti, bilancio molto più elevato delle attuali 80.000 vittime Dice il birologo Fauci Intanto la Russia diventa seconda per contagi Infatti positivo anche il portavoce di Putin Queste erano le ultime notizie per quanto riguarda il coronavirus Oggi in Italia Era un bel po' infatti ragazzi che non portavo notizie sul coronavirus Anche perché mi sono dedicato ad altri video Comunque come sempre ogni tanto torneremo sull'argomento E comunque continueremo a tenervi aggiornati su questo canale Con le ultime notizie riguardanti il coronavirus Come sempre ragazzi lasciatemi un bel like Naturalmente ragazzi continuate a mandare il vostro supporto Sostenendo il nostro canale Iscrivendovi Mi raccomando a presto per un nuovo video Ciao